Purtroppo, e mi dispiace tantissimo, ho commesso con vari ruoli una quarantina di omicidi. Ha preso il via così con la confessione dei delitti a cui ha partecipato la deposizione del pentito Gaspare Spatuzza che sta testimoniando al processo sulla trattativa Stato-mafia. Tra gli assassini commessi il collaboratore ha citato quello di Don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio adesso beato, ucciso la sera del 15 settembre del 1993. Padre Puglisi voleva impossessarsi del nostro territorio, ha raccontato Spatuzza. Prima lo controllammo, poi si decise di ucciderlo. Volevamo simulare un incidente perché sapevamo che un omicidio di un prete avrebbe avuto conseguenze, poi però optammo per il delitto classico. Era un sacerdote che andava per conto suo, ha aggiunto il collaboratore di giustizia, e per questo motivo dava fastidio. Quella della sua eliminazione era una pratica aperta da almeno due anni. Spatuzza fu tra gli esecutori materiali del delitto insieme a Salvatore Grigoli. Si decise di simulare una rapina, ha detto usammo una pistola di piccolo calibro per dissimulare la pista mafiosa. Un capo mafia, ha spiegato, non poteva tollerare che un prete si muovesse per conto suo e doveva dimostrare chi comandava Brancaccio. La deposizione di Spatuzza è stata preceduta da una schermaglia processuale tra la difesa dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, tra gli imputati e i PM. Il difensore di Dell'Utri, l'avvocato Giuseppe Di Peri, ha chiesto che venga depositato agli atti del processo il verbale illustrativo della collaborazione di Gaspare Spatuzza. Una mossa finalizzata a dimostrare l'inattendibilità del pentito che non ha parlato nella dichiarazione di intenti imposte dalla legge ai collaboratori di giustizia delle notizie apprese dal boss Giuseppe Graviano su Dell'Utri e su Silvio Berlusconi. Per il legale Spatuzza ha parlato delle circostanze riferite da Graviano dopo i 180 giorni che la legge indica come termine massimo entro il quale i pentiti devono dire all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza.